I giocatori della New Team effettuano dei passaggi velocissimi. Il loro è un magnifico gioco di squadra, coordinato alla perfezione. No, non posso sbagliare. Beh, io ho la netta impressione che Ed si sia fatto molto male alla spalla sinistra. Se è davvero come dice Oliver, allora quello è il punto debole di Ed. Devo provarci, anche se non è leale. Vai! Diamond sembra intenzionato a tirare in porta. Davvero eccezionale questo tiro e direi anche estremamente preciso. Attento Ed! Il portiere della Tau si tuffa, ma sembra che abbia qualche difficoltà. Infatti Warner non riesce ad afferrare il pallone che gli scivola via. Ma per fortuna la palla finisce fuori. Un'occasione d'oro per la New Team che poteva aggiudicarsi il punto della vittoria. Ma allora è proprio vero? Accidenti! Sì, infatti se hai notato non è riuscito ad alzare il braccio sinistra. Deve fargli piuttosto male. Purtroppo se ne sono accorti tutti quanti. Cosa? Sto parlando della spalla di Ed. Io me ne ero accorto già da un pezzo, ma speravo che la cosa passasse inosservata. Adesso il nostro compito sarà doppio. Dobbiamo assolutamente evitare che la New Team ti riporta. Ok! Grazie amici. Siete pronti a proteggermi, ma io farò il mio dovere fino in fondo. Non vi deluderò ragazzi. Bene, il gioco riprende. Warner rilancia la palla. Anticipo di Mellin. Forza ragazzi! Sì! Dai ragazzi, avanziamo! Tutte e due le squadre meriterebbero di vincere perché stanno giocando con grande professionalità. Non si sono mai risparmiate in un continuo alternarsi di azioni velocissime. Entrambe quindi meriterebbero la vittoria, ma questo il gioco purtroppo non lo consente. Devo segnare il quarto gol. In questo momento è Mello in possesso di palla. Mello la passa a Bright, che la ritorna nuovamente a Mello, che avanza velocissimo. Sei pronto, Eddie? Secondo passaggio di Mello a Bright. Non mi piace affatto come si stanno mettendo le cose. Danny! Tiro lungo di Bright ed è Mello che tenta di intercettare il pallone. Mello è riuscito a impossessarsi della palla. Bravo Mello! Il numero 15 tenta di districarsi, ma ecco intervenire in suo aiuto il capitano Lenders. In questi ultimi minuti la Toe sta giocando davvero in modo magnifico. Improvviso colpo di testa di Atton, che toglie la palla al suo avversario. Il capitano della Toe non si aspettava una cosa del genere. Bravo Olly! Nonostante la non perfetta forma, il capitano della New Team riesce ancora a compiere delle azioni a dir poco strabilianti. Ora è Diamond in possesso di palla. Non ti permetterò di fare il quarto gol. Non riuscirai a vincere questa finale, Mark. È troppo importante per me batterti. E ti giuro che ce la farò. Questa volta ti è andata bene. Ma non illuderti Oliver, ti batterò. Indubbiamente sono due squadre molto forti. Sì, e meriterebbero di vincere entrambe questa finale. Dico sul serio. Se fossi un giudice non saprei assolutamente a chi dare la vittoria. Neanch'io. Che caldo. Per chi si ponesse soltanto adesso all'ascolto, ricordo che il risultato fra la New Team e la Toe è sempre di tre pari. È una partita veramente entusiasmante che ha visto centinaia di colpi di scema. Avanti Toe! Forza Lenders! Forza! Il pubblico qui allo stadio, nonostante il gran caldo, continua a sostenere i suoi beniamini con un tifo che si fa sempre più sostenuto. Ormai siamo alla fase finale della partita e tutto il pubblico presente e quello che segue in tv sta aspettando con ansia di sapere quale delle due sarà la vincitrice del campionato nazionale. Vi informiamo che la particolarità di questo torneo sta nel fatto che se le due squadre dovessero finire in parità ci saranno i tempi supplementari. Ma qualora la partita dovesse terminare in parità anche al termine dei tempi supplementari, non si procederà ai calci di rigore. Comunque quello che soprattutto ha polarizzato l'attenzione degli spettatori è stata la presenza in campo di Mark Lenders, capitano della Toe che per tutto il campionato è rimasto in panchina e di Oliver Hutton che, come vi ho già detto prima, è sofferente per un infortunio alla spalla. Abbiamo saputo che il medico gli ha fatto due iniezioni per calmargli il dolore che non gli sta dando tregua. In effetti a vederlo sembra molto provato, si tiene la spalla e sul volto si notano i segni della sofferenza. Il gioco riprende in questo momento con una scivolata di Atton. Accidenti! Bravo, sei grande! Adesso basta, sono stufo di trovarmelo sempre fra i piedi. Hans si fa sfuggire la palla e Lenders ne approfitta. Sei più forte, Mark! I due capitani non perdono un secondo. La palla passa da un piede all'altro senza tregua e non susseguirsi di colpi di scena. Lenders e Atton stanno dando il massimo per aggiudicarsi il punto che potrebbe decretare la vittoria della loro squadra. I tifosi sostengono a gran voce i due grandi eroi di questa finale che, nonostante la loro enorme rivalità, giocano con grande sicurezza e professionalità. Sarebbero pronti a qualunque cosa pur di evitare che l'avversario tiri in porta e per questa ragione si tallonano in permanenza. Atton raccogliendo tutte le sue forze cerca di raggiungere Lenders. Oliver, so benissimo che sei pronto a tutto. Lo vedo dai tuoi occhi. Mi dispiace che tu stia male, ma non avrò pietà. Lotterò con tutte le mie forze. I due giocatori si stanno quasi per scontrare. Lenders ha la meglio su Atton che purtroppo finisce a terra. Speriamo che non gli sia accaduto niente di grave. Ollie! Non è giusto. Questa lotta tra me e Oliver non è a darmi pari. Non è così che voglio vincere. Coraggio, blocchiamolo! L'indica scivolata di Newman, ma Lenders con un salto lo supera. Fantastico! Dopo aver passato la palla a Mello, Lenders cerca di portarsi verso la metà campo avversaria. Mark! Il difensore della New Team non riesce a bloccare il pallone che viene prontamente intercettato da Lenders che si appresta al tiro. No! Non fatelo tirare! Dobbiamo fermare il tiro da tigre di Marco oppure è la fine per noi, ragazzi! Via! Nessuno riuscirà a parare il mio tiro infallibile. Vincerò, ne sono sicuro! Lenders lancia fortissimo! I difensori della New Team sono riusciti miracolosamente a fermare la palla. Ma il tiro è talmente potente che la palla si dirige incontrollata verso la porta. Magnifica parata di Crocker! Non è possibile! Il portiere della New Team con un tuffo strabiliante è riuscito ad impedire il quarto gol. Grande delusione della Toe che già assaporava la vittoria. Evviva! Non mi amare ce l'abbiamo fatta! Evviva! I tifosi della New Team festeggiano lo scampato pericolo. Magnifica parata, Alan! Bravo, Alan! Sei un vero fuoriclasse! È pazzesco! Hanno fermato il mio tiro da tigre! Alan! Tieni, Ollie! Rimette in gioco il portiere passando al suo capitano. Su, coraggio! Seguiamo Ollie, ragazzi! Ok, presto dobbiamo raggiungerli, ragazzi! E adesso è la New Team a portarsi in attacco. Hatton è in possesso di palla. Con grande rapidità si avvicina alla porta avversaria. Che hai, Oliver? Santo cielo, si è fatto male! Passami la palla, Oliver! Che cosa vuoi fare? Devo farcela. Lo devo fare per la mia squadra. La spalla mi brucia da morire. Ma non posso deludere chi crede in me. Non posso arrendermi in questo momento. È troppo importante. Siamo tre pari. E io voglio vincere. Devo assolutamente tentare per l'ultima volta il mio tiro a defetto. Grazie. 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 Grazie.